Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda di miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Non si s'è il caso di chi guarda di miei video, non è perché la stessa che guarda. E' sicuramente la stessa che guarda di miei, perché la stessa che guarda di miei video è stato il caso della tua ha? C'è quello che stessa? C'è quello che stessa? C'è quello che stessa? C'è l'evento che non si riuscola? C'è tutto il caso di quello che si faccia? O! Hai risposto! Uiiiiè! Sì! Superi, l'ho aperto! Tutti? O Voi ci sono... Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. 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 to win the tournament so you solidify third place and get the prize money hell no bro if you're like if bro they're at 52 and the next third place would be at like 20 something yeah but like bro you're a competitor you want to win so you're going to do everything not to win listen I'm not saying I have an answer for you I mean I feel like I know I'm saying no no one's going to do that what would you would you let them win okay see and that's why you're here and not out there I didn't listen I didn't answer I'm saying your third place let's say you have two two kills going into it yeah there's no guarantee that you're going to finish third or better I mean you have a guarantee in front of you it's like a deal or no deal like you're about to open the case that's why you're up here